Abbiamo fatto tamponi nella misura di 31.745 tamponi. Stiamo procedendo sulla base delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, facendo i tamponi a chi vanno fatti. Il Veneto ha fatto un'altra scelta, facciamo i tamponi a tutti quanti. Ovviamente non si fanno i tamponi a tutti quanti, sono parole perché fra l'altro non ci sono i tamponi, poi vi dico sui tamponi, ma questa della tamponite è diventata una malattia, facciamo i tamponi a tutti quanti. Nel Veneto dove hanno fatto decine migliaia di tamponi, i dati di ieri dicono che c'è stato un aumento dei contagi ovviamente, a conferma del fatto che non è quello l'elemento decisivo, ma è decisivo il distanziamento sociale e il controllo sul territorio della catena di contatti che hanno le persone contagiate.